Centro Ufficio, Viale Teseo Tesei, a Porto Ferraio. Abiti, complementi per la casa, accessori per i bambini. E' appena terminata alla Sala Telemaco Signorini la mostra delle allieve dei corsi di cucito, moda e cucito creativo, che ogni anno sono tenuti da Emanuela Tamagni. Abbiamo diversi tipi di corsi che vanno dai corsi professionali, dove la nostra scuola è la Sita Bandipadova, e la sede è praticamente centrale dell'Istituto di Moda di Padova. E abbiamo dei corsi professionali, come ho detto, che sono dei corsi sia di figurinista, sia di modellista, esoluppatrice industriale, nei quali bisogna poi alla fine del corso dare un esame. Mentre poi ci sono dei corsi più semplici, che sono corsi di taglio e cuscito base, e anche dei corsi di cuscito creativo, corsi nei quali facciamo diverse tecniche, praticamente, dove inseriamo anche alcune tecniche come il patchwork, come l'appliqué, e facciamo l'oggettistica, il cuscito creativo, e tutte queste cose. Per quanto riguarda quello che poi è la maggior parte della mostra, che è il cuscito creativo, già questo è quello che hanno fatto le mie allieve nel primo anno di corso. Praticamente questo è quello che abbiamo realizzato lo scorso anno. Ora, a novembre parte di nuovo un'altra stagione di corsi. I corsi si iniziano sempre a novembre e finiscono, hanno degli orari, cioè hanno il primo corso, per esempio, di taglio e confezione 48 ore, invece di cuscito creativo è di 30 ore. I corsi cominciano l'11 novembre, le iscrizioni sono ancora aperte, se qualcuno vuole iscriversi può rivolgersi direttamente a me, vi posso dare la mia posta elettronica, che è manuelastile.it a me, vi posso dare la mia posta,